È difficile distinguere tra storia e fede parlando della mulattiera di Montallegro. Conosciuta già in epoca medievale, quale via di commercio diventa importantissima dopo il 1557, anno dell'apparizione di Maria sul monte di Rapallo. Ora il progetto per valorizzarla diventa realtà e il primo passo sarà domenica 29 ottobre, con un evento organizzato dal Circolo della Pulce, patrocinato dal Comune di Rapallo e realizzato grazie al personale dell'ente parco di Portofino, che accoglierà i partecipanti lungo il sentiero che conduce al santuario alle 10 con un banchetto informativo. Per chi lo desidera, alle 11.30 la messa. Seguirà il pranzo e poi dalle 15 la discesa lenta con la guida degli esperti del parco che illustreranno le peculiarità di questo percorso in discesa perché tutti possano partecipare contribuendo a scrivere la storia della mulattiera. Noi abbiamo creato questo evento perché tutti possano portare le loro esperienze, le loro foto, soprattutto quelle vecchie che riguardano la mulattiera, le cartoline, i ricordi dei nostri vecchi che verranno poi adoperati proprio per scrivere questa storia. È una storia che coinvolgerà anche le scuole, quindi i ragazzi giovani che intervisteranno gli anziani e che porteranno avanti poi a livello anche di promozione turistica in italiano e in inglese. Quindi è un progetto molto ampio, molto bello. L'obiettivo è anche quello di offrire un'occasione di superamento delle barriere architettoniche, fisiche e prima ancora mentali. Ci saranno, parteciperanno i ragazzi dell'Anfas intanto con noi a questa bellissima passeggiata e un disabile sarà portato insieme a noi lungo la discesa dalla mulattiera grazie a una speciale carrozzina che ha in dotazione l'ente parco e chiaramente alla presenza dei volontari del soccorso di Rapallo. Il traguardo più impegnativo però è quello finale, ovvero quello di creare un'occasione di socializzazione ampia senza barriere e differenze in nome del valore che ciascuno è e porta a vantaggio di tutti. Ritornano quei valori antichi che sono veri e che sono nostri. Le persone sono tutte uguali, le persone valgono perché sono persone e soprattutto i loro ricordi sono storia, sono una staffetta che dobbiamo passare ai nostri giovani trasmettendo l'amore e la passione che c'era nelle generazioni precedenti facendoli diventare portatori sani di questo amore da portare avanti, di questa passione e di questa storia.